Buongiorno a tutti, io mi chiamo Andrea e sono un paziente del dottor Garitano. Mi sono rivolto a lui in quanto circa due anni fa mi è stata diagnosticata la SIBO che ha questa disbiosi intestinale abbastanza inalitante, caratterizzata appunto da una proliferazione batterica dell'intestino tenue che può rendere la vita abbastanza complicata. All'inizio mi ero rivolto a un nutrizionista che però non era in grado di soddisfare le mie aspettative e quindi dopo un periodo diciamo di stallo in cui sono rimasto con questo problema ho deciso assolutamente di risolverlo e mi sono messa la ricerca su internet di un nutrizionista che potesse aiutarmi. Sono capitato per caso sul sito di Francesco e subito sono rimasto colpito dalla sua professionalità che traspirava anche dal sito stesso. Lui è un professionista esperto nella cura appunto di tante patologie specialmente però problemi di SIBO e disbiosi intestinale vari, quindi tutto ciò che concede l'intestino e pensate che ha due lauree, una in CTF che sarebbe chimiche e tecnologie farmaceutiche e un'altra in scienze della nutrizione ma adesso sta prendendo anche la laurea in medicina, quindi ha praticamente tutte le carte in regola per poter soddisfare le aspettative di ogni paziente. Io mi sono rivolto a lui appunto per questo problema, ho preso appuntamento con la sua segretaria e poi lui sono presentato una visita e ho confermato praticamente l'impressione che aveva avuto dal sito, ovvero una persona molto 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 competente, molto umana, che sa ascoltare, molto preparata, sono state fatte delle domande dettagliate, tutta una serie di domande volte proprio a capire il tipo di problema, è stato eseguito anche un esame impetenzometrico per rilevare la massa corporea, quindi insomma è una visita molto 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 approfondita, lui è una persona che sa ascoltare, è molto calma, devo dire che sono sei mesi, che sono quasi sei mesi, che sono nelle sue mani e posso dire con certezza che i miglioramenti ci sono e anche notevoli. Chiaramente è un percorso lungo, quindi serve tanto tempo, ma sono sicuro che Francesco sarà in grado di risolvere qualsiasi tipo di problema intestinale e non abbiate da risolvere. Quindi che dire, ringrazio Francesco per tutto quello che sta facendo per me e lo consiglio vivamente a tutti quelli che hanno bisogno di risolvere il problema intestinale. Ciao! Grazie!